Grazie ai compagni e alle compagne del CUA che hanno proposto questa iniziativa che naturalmente a partire del libro La Collera della Casba tenterà di fare un po' il punto della situazione su quello che sta succedendo in Tunisia e non solo. Ormai ci troviamo a diversi mesi di distanza da quando quelle straordinarie giornate insurrezionali erano riuscite a cacciare Ben Ali e quindi con tutto questo lasso di tempo che abbiamo oggi possiamo tentare insieme anche a Nidal e a chi sta partecipando all'iniziativa di avanzare alcune ipotesi e di provare anche perché no a tirare le somme di quello che ormai è un lasso temporale di iniziativa, di lotta, di processo rivoluzionario che si sviluppa molto importante e ormai che inizia ad avere veramente delle caratteristiche abbastanza chiare. Per iniziare tenterò di rispondere alla domanda che poneva adesso Andrea. Come si è costruito questo libro e perché? Innanzitutto dobbiamo fare qualche passo indietro, sicuramente prima del 17 dicembre, la giornata in cui Mohamed Bouazizi si immola a Sidi Bouzid, entrare nelle aule occupate di via Zamboni 38 quando la formazione in lotta qua a Bologna proponeva continue assemblee, dibattiti, discussioni, manifestazioni, scontri con la polizia, iniziative di comunicazione, iniziative di lotta sempre più incalzanti contro la riforma Gelmini e contro il governo Berlusconi. Ecco, tutta una serie di processi, di dibattito, di saperi messi in condivisione e poi ancora di iniziative, di momenti di scontro che poi confluiranno in quella piazza straordinaria di lotta che è stata il 14 dicembre. Ecco, io mi ricordo che in quei giorni qui in via Zamboni 38 si faceva il punto della situazione su una generazione che qua in Europa sembrava non voler più né sperare da una parte e né continuare a parlare, no, ci dobbiamo conquistare il nostro futuro contro queste riforme del governo Berlusconi. No, quella composizione, questo mondo studentesco diceva ci dobbiamo conquistare qui e subito il nostro presente. Lo si faceva occupando le strade, lo si faceva occupando le piazze, producendo momenti di conflitto veramente importanti qui a Bologna come altrove. Si arriva il 14 dicembre, si attraversa quella piazza, le piazze romane in cui il fuoco della conoscenza ha fatto sentire tutta la sua potenza, anche i rapporti sociali qui in Italia e poi dopo solo tre giorni, dopo pochissimi giorni, Mohamed Bouazizi si immola. Passano poche ore da quel gesto, mi arrivano alcune telefonate che in maniera sicuramente agitata, preoccupata ed appassionata mi raccontano di queste prime esplosioni insurrezionali in alcune città e paesi della Tunisia, contemporaneamente i compagni e le compagne di Infro Free Flow con i loro saperi, le loro capacità riuscivano fin da subito ad intercettare quelle che erano le comunicazioni di Anonymous, questo brand che unisce hacker e media attivisti di tutto il mondo e che nel caso tunisino incominciava a farsi sentire, minacciando Ben Ali di iniziative contro il regime se non la smetteva di reprimere le manifestazioni. Ecco, in questo contesto incomincia ad aprirsi un nuovo passaggio del dibattito che io ho voluto e voglio legare a un dibattito già esistente che aveva a che fare con tutte le discussioni sulla formazione in lotta e dentro la formazione in lotta che si sviluppavano qua a Bologna. Dopo neanche tre giorni esce il primo articolo su Info Out che è l'articolo, se non sbaglio il titolo era Ben Ali Trema. Ecco, ci furono momenti di dibattito e di discussione all'interno della redazione, una volta stampato e pubblicato quell'articolo il dibattito su gli eventi tunisini incominciò a coinvolgere tanti altri compagni e tante altre compagne. Ecco, i saperi e le capacità incominciavano a convergere sugli eventi tunisini e se all'inizio eravamo nel collettivo di Info Out tra l'università occupata ed Info Free Flow, passano i giorni, sicuramente gli eventi della Tunisia vanno avanti, si sviluppano, ma anche il nostro dibattito, sicuramente molto partecipante e molto partecipato degli eventi nordafricani, incominciava a svilupparsi in maniera sempre più densa e sempre più attenta a tutta una serie di questioni. Io mi ricordo l'emozione che avevamo quando, guardando i video che venivano pubblicati dagli attivisti tunisini e che fotografavano, narravano quello che stava succedendo in Tunisia, ecco, mi ricordo l'emozione quando nei volti dei giovani e delle giovani rivoluzionarie, vedevamo gli stessi volti che avevamo visto puntare lo sguardo e poi puntare il dito e poi scaraventarsi contro l'alta torre dei conservatori a Londra, quando ci furono quelle giornate importantissime di lotta e di conflitto. Ecco, scoprivamo con emozione che tra la piazza londinese in lotta contro le riforme dell'austerità che veniva e la piazza tunisina, non c'erano dei tratti che ci facevano dire qua c'è una grossa differenza, qua si sta parlando di qualcosa d'altro, ma scoprivamo che c'erano invece dei tratti veramente comuni, molto forti e delineati, che poi li riscoprivamo anche qui a Bologna o nelle piazze che attraversevamo durante le iniziative e i momenti di lotta contro la riforma Gelmini. Passano ancora i giorni, finalmente Ben Ali viene buttato giù dalla piazza Suon di Degage e riesco a prendere il primo biglietto per Tunisi. In quell'occasione c'erano le battaglie della Casba in corso e tra una barricata e un'altra, mentre i proiettili dei fucili della transizione democratica fischiavano nell'aria, riuscivamo anche a trovare il tempo per discutere e confrontarci con i compagni e le compagne tunisine, ma anche con la popolazione che partecipava alle giornate insurrezionali in Nordafrica, in Tunisia. Da lì nasce questo, se vogliamo, questo nuovo passavanti di una con ricerca che in questo libricino, in questo libretto trova soltanto una prima, se vogliamo, messa in forma letteraria, ecco questo, una prima messa in forma letteraria di un lavoro decisamente collettivo. Ecco, mi piace pensarlo, ne discutevo anche con Nidal, quanto dietro a questi tentativi di mettere in forma tutto un materiale di convergenze, di saperi, di esperienze, ci sia comunque e ci vuole essere un noi pulsante. Ecco, il lavoro che ho fatto io non è stato altro quello di mettere in forma, nell'introduzione, saperi che si sono sviluppati in momenti caldi di lotta qua in Italia, come in Nordafrica, e poi le parole che ho tradotto, interpretate, vengono, interpretate traducendole naturalmente dall'arabo all'italiano, vengono dal caldo della lotta, perché poi, come spiego anche nell'introduzione, queste interviste sono raccolte durante un momento molto particolare e molto duro e sensibile dei processi rivoluzionari tunisini, è il tentativo di conquista della terza casba e in quelle giornate, mentre anche con Nidal correvamo e cercavamo di scampare le fucilate della polizia, della transizione democratica, o tentavamo di avanzare con i manifestanti, riuscivamo anche a trovare il tempo per fare il punto della situazione, pensare quello che era successo ormai da sei mesi a quella parte e quali erano le aspettative per il futuro. Ecco, queste narrazioni che presento qui nel libro vengono proprio da quelle giornate, giornate di gas lacrimogeni, ma anche giornate di grida e di slogan in piazza che puntavano naturalmente a riconquistare quella che era la grande piazza del movimento rivoluzionario tunisino e che era la casba. Ecco, quindi questo lavoro di con ricerca, questo primo, questo libricino che fa un primo passo verso questo lavoro di con ricerca, credo che a livello complessivo ci ha dato la possibilità fin da subito, ecco questa è una cosa importante, di calarci, anche qui se stiamo nell'altra parte, nell'altra riva, nell'altra sponda del mar Mediterraneo, di calarci nella composizione viva, nella prima fila, perché no, nella prima fila, conquistando veramente la prima fila della composizione del movimento rivoluzionario tunisino. Questa esperienza ancora in corso, che tra l'altro ha avuto dei momenti veramente importanti, come citava adesso Andrea, che sono stati ad esempio il meeting di lotta transnazionale a Tunisi, a cui ho partecipato insieme ai compagni del collettivo autonomo universitario di Bologna, è stato uno snodo sicuramente importante, quindi questo processo, questo percorso è sicuramente ancora, deve ancora andare in avanti, deve ancora svilupparsi e penso che però a questo punto possiamo già incominciare ad annotare sui nostri quaderni militanti quelle che sono le prime grandi lezioni del processo rivoluzionario tunisino. Io penso già in chiave ipotetica, ne avevo parlato un anno fa, quasi esattamente un anno fa, durante un'iniziativa simile a questa, sempre qui a Bologna, che ormai possiamo usare il presente indicativo quando diciamo che il processo rivoluzionario in Tunisia, le insurrezioni tunisine, sono state la prima risposta di parte proletaria alla crisi capitalistica. Ecco, all'interno dello spazio che si era descritto da quando il neoliberismo era entrato in crisi in cui aveva giocato alle carti soltanto la controparte, la parte contro i governati, contro i proletari, contro i disoccupati e i precari, invece con la Tunisia per la prima volta nel mondo c'è una risposta di parte proletaria. E questa risposta, con il suo grande coraggio e con i suoi esempi veramente di straordinaria generosità, ha fatto una cosa veramente importante, ha fatto rientrare nell'ordine dei rapporti sociali la parola rivoluzione. Non più retorica, non più quindi patrimonio di discorsi retorici, dall'altra parte neanche più patrimonio di chi pensa alla rivoluzione come a un evento mistico e disincarnato dai rapporti sociali che a un certo punto, come dire, avvolge la storia e dall'altra parte neanche più fraseologia che viene utilizzata da certe forme di populismo. No, con la Tunisia, con le insurrezioni tunisine la rivoluzione diventa qualcosa di profondamente attuale ed entra nel campo del possibile, delle prospettive di lotta dei proletari di tutto il mondo. Dico questo che naturalmente ha a che fare con una visione, se vogliamo, anche più ampia, perché se invece cerchiamo di approfondire con lo sguardo il tema proprio dei comportamenti anche del proletariato tunisino quando si va a scontrare contro il regime di Ben Ali, ci scopriamo che tutte le battaglie che sono state messe in campo e che ancora si riproducono in Tunisia, perché il processo naturalmente va avanti, non è un processo lineare, ha degli arresti, ha delle battute in cui torna indietro e poi come una diagonale prende un altro terreno, ma va avanti, ecco tutti quei comportamenti del processo rivoluzionario tunisino tendevano e tendano ad attaccare, a rompere, a sfasciare radicalmente la forma della coesione sociale del regime di Ben Ali che ancora tra l'altro persiste, ma del regime di Ben Ali che è tale in quanto è il regime di parte neoliberista e che fa entrare la Tunisia quando c'è il colpo di Stato agito da Ben Ali all'interno del mercato globale. Ecco, questo è un dato veramente secondo me importante, ne parlavamo anche tempo fa quando spiegavo qual era stata questa prima riforma che aveva fatto Ben Ali una volta che aveva preso il potere nel 1987, era la riforma finanziaria che stravolge completamente l'assetto finanziario bancario tunisino e utilizza il paradigma del credito problematico come paradigma su cui ricostruire, pensare e praticare la finanza in Tunisia. In poche parole il credito problematico è come un gioco a poker con se stessi a carte scoperte in cui c'è la banca che fa il credito, sa benissimo che l'imprenditore che l'ha richiesto non potrà mai ripagare il credito agli interessi pattuiti e poi si stabilisce che la banca nazionale, la banca pubblica paghi gli interessi al posto dell'imprenditore. Immaginatevi voi se banca privata, banca pubblica e imprenditore si chiamano Ben Ali, Ben Ali, Ben Ali, che livello di speculazione rapace, violenta e devastante sulla pelle della popolazione tunisina si trattava. E per fare questo naturalmente andava costruito un modello di coesione sociale adeguata a quelli che erano questi rapporti violenti che naturalmente non si poteva permettere che in Tunisia ci fosse una contestazione a questa finzione, non ci poteva essere come dire la possibilità che la verità di parte che rompeva questa finzione del credito problematico emergesse e non è un caso che la parola verità fa parte proprio del linguaggio della piazza rivoluzionaria tunisina. Perché poi da lì in poi, dal 1987 in poi, il regime di Ben Ali comincerà a produrre un sistema di finzioni per costruire la propria società. La Tunisia è lanciata verso il futuro della democrazia, la Tunisia è il paese del Nord Africa che ha più le carte in regola per ambire a un livello di progresso come l'Europa, la donna tunisina è la donna che ha più diritti di tutte le donne del paese arabo, la Tunisia avrà sicuramente nei prossimi anni uno sviluppo economico straordinario. Ecco, tutte queste finzioni per proteggere naturalmente quel sistema di rapina radicale incominciano ad essere iniettate nella società e naturalmente se sono delle credenze sono tali perché naturalmente sono credute. Sono credute con che sistema? Con tutto un sistema capillare di ingresso all'interno del corpo vivo della società di quelli che erano i grandi tentacoli della speculazione. Ecco qui la finanziarizzazione che arriva e che stravolge, che impone in maniera veramente dura e forte ai tunisini questo regime di rapina costante. Per garantire tutto questo viene fondato l'RCD da una parte, che era il partito da elezioni bulgare di Ben Ali e dall'altra parte cambia ruolo del ministero degli interni. L'RCD, il Rassemblement Constitutionnel Democratic, diviene l'unica e sola chance per qualsiasi proletario, per qualsiasi ragazzo della classe media, di avere l'occasione di una futura mobilità sociale. Se si andava a scuola, si andava all'università, tra l'altro in tantissimi potevano permetterselo perché Ben Ali aveva comunque voluto mantenere quella che erano le direttrici delle politiche sulla formazione e la sanità anche del passato regime di Burghiba. Ecco, chiunque andava all'università, in ogni modo, una volta che aveva preso il suo diploma, la sua laurea, doveva in qualche modo avere a che fare qualcosa con l'RCD, con l'RCD, per poter poi spendere il proprio diploma, la propria laurea, per fare un passo avanti magari rispetto dal punto di vista sociale, rispetto alla collocazione della propria famiglia, quindi migliorare le proprie condizioni. Ecco, questo dal punto di vista della formazione, ma anche per aprire una tabaccheria, come per aprire un ristorante, si doveva essere legati in una maniera o l'altra a questo partito, che era strutturato da cellule di quartiere, fino ad arrivare al grande palazzo dell'RCD, la cui scritta poi è stata buttata giù, proprio nel centro di Tunisi, nelle giornate di insurrezione. Insieme all'RCD viene, insieme alla costruzione di questo partito, che poi come ci spiegherà anche Malek nel libro, era un partito di fatto vuoto, un partito in cui l'unico discorso era viva Ben Ali, viva Ben Ali, non c'era una cultura di questo partito, non c'erano dei letterati, non c'erano dei politici veri, c'era soltanto l'intreccio di clientele e la sottomissione, secondo una scala rigidissima e verticale del mercato del lavoro, di un pezzo del lavoro sopra l'altro. Ecco, insieme a questa operazione, dopo questa operazione c'è la riforma di tutto il codice amministrativo pubblico che fa Ben Ali, questo succede dopo neanche otto mesi dal colpo di Stato, viene riformato il diritto pubblico e di fatto che cosa si crea? Tutto il livello base dell'esercizio e del consumo del diritto pubblico viene mantenuto, quindi il livello del rapporto diretto tra cittadino ed ente pubblico viene mantenuto così come era stato strutturato da Burghiba, ma vengono letteralmente cancellati tutti gli altri articoli che reggevano la catena di comando dell'amministrazione, perché al posto di quegli articoli ci sarà una sola ed unica parola, Ministero degli Interni. Quindi qualsiasi attività pubblica o privata che doveva passare naturalmente per una codificazione giuridica amministrativa, a un certo punto dopo i primi due o tre passaggi, le prime due o tre scrivanie in cui si mettono le firme e si dà l'ok i dispositivi dell'amministrazione, tutto il resto poi si svaniva nel buco nero del Ministero degli Interni, che ovviamente al piano giù nelle fondamenta c'erano gli aguzzini, i poliziotti che torturavano, flagellavano, massacravano attivisti, militanti dell'opposizione e poi invece negli altri piani, nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto c'era tutta la catena di comando che di fatto regolava e in parte ai noi ancora regola la società tunisina. Ho voluto fare questa digressione, per quale ragione? Perché credo che sia importante, in base a questo discorso, dare ragione dei comportamenti del processo rivoluzionario tunisino. Tanti di noi che l'hanno seguito da osservatori partecipanti ne hanno avuto testimonianza diretta, altri l'avranno visto su YouTube, sui social network o in televisione, ma a fronte di questo discorso possiamo anche capire perché il processo rivoluzionario tunisino si è dispiegato in prima battuta con l'attacco diretto alle sedi locali dell'RCD, a tutte le diramazioni del Ministero degli Interni e a tutti quelli che potevano essere gli edifici che rimandavano a questa amministrazione ormai perversa e legata al Ministero degli Interni. Quindi che cos'è che sfascia, che tenta di sfasciare, che tenta di fare in pezzi e in parte ci riesce con che risultati il movimento rivoluzionario tunisino? Riesce, tenta di spaccare il modello di coesione sociale neoliberista in Tunisia. Ecco perché allora possiamo dire veramente che l'attualità della rivoluzione che propone, che hanno proposto le giornate insurrezionali di Tunisi è un'attualità completamente legata, come dire, interna ai rapporti sociali del neoliberismo e che su quei rapporti sociali tenta di far saltare tutte queste forme di rapina e di coercizione. Quindi questo qua credo che è un passaggio che dà ragione di quando si avanza il discorso per cui l'attualità della rivoluzione, il divenire rivoluzionario tunisino è stato quel divenire rivoluzionario tunisino che per la prima volta ha fatto apparire nello spazio e nel tempo della crisi una risposta di parte, una risposta proletaria. I protagonisti che hanno messo in campo e stanno mettendo in campo questo processo, come dicevamo prima nell'introduzione quando si parlava del fare con ricerca, sono proprio quei ragazzi e quelle ragazze che anche qua in Europa abbiamo visto attraversare le strade e le piazze durante le grandi contestazioni alle riforme dell'educazione, dell'università e delle scuole superiori. L'abbiamo vista qua in Italia contro la Gelmini, l'abbiamo vista anche a Londra battersi contro i primi tentativi di austerity del nuovo governo in Gran Bretagna e li continuiamo ancora a vedere poi in tante altre piazze e strade del mondo, non ultimo il Quebec e via dicendo. È una composizione che presenta un precariato cognitivo decisamente sviluppato, capace di articolare i propri saperi sia consumati nella curva degli ultras, fino ad arrivare alle proprie capacità consumate nella curva degli ultras quando ci si scontrava già con la polizia, fino ad arrivare alle proprie capacità di, come dire, curvare l'uso dei social media, di utilizzare i propri saperi e rovesciarli non più come saperi morti ma farli diventare vivi. Ecco, quella composizione là è quella composizione che sta tentando di portare avanti, di sviluppare il processo rivoluzionario in Tunisia. E poi va detto che i bisogni e i desideri che ha espresso e che continuo a esprimere anche qui hanno veramente dei tratti comuni tra una parte e l'altra del mediterraneo. Mi ricordo anche qui l'emozione quando si ragionava tra compagni e compagni e si diceva quale può essere la traduzione migliore della parola de Gage, tenendo presente che il lavoro dell'interprete e del traduttore non è qualcosa di neutro ma è sempre qualcosa di decisamente politico. Se ne ragionava insieme e c'era veramente emozione quando scoprivamo che potevamo tranquillamente tradurlo col che se va i antodos o il non ci rappresenta nessuno. Ecco, quindi mentre questa composizione del processo rivoluzionario tunisino rompeva il modello della coesione sociale neoliberista di Ben Ali, incominciava a gridare quegli slogan che anche nelle piazze di Europa avevano attraversato e con quale efficacia le lotte contro l'austerity che stava per arrivare. In questo modo si arriva alla Casba, si arriva a questo grande presidio di massa nel centro di Tunisi che poi probabilmente ci spiegherà meglio Nidal e riappropriandosi di quello spazio pubblico un altro pezzo veramente importante se vogliamo della microfisica del regime di Ben Ali va in frantumi. Da una parte la solitudine, dall'altra parte la paura e dall'altra parte ancora l'individualismo cieco. Ecco, questa è una cosa, l'individualismo neoliberista, ecco, quella cultura del fottersene dell'altro che naturalmente anche in Tunisia aveva fatto scuola perché il regime di Ben Ali, se uno aveva l'amicizia con il piano superiore del livello dell'RCD naturalmente poteva, come dire, utilizzare tutta la violenza possibile con chi invece riusciva soltanto ad accedere al primo e al secondo piano. Quindi un individualismo veramente, come dire, che anche qua in Italia conosciamo con tutte le segmentazioni del mercato del lavoro, ma che anche in Tunisia si faceva sentire tramite la codificazione delle clientere dell'RCD. Ecco, con l'appropriazione della Casba l'individualismo, la solitudine soprattutto, così come ci spiegano anche tanti altri ragazzi, compagni e compagni che ho intervistato, il fatto di non avere il coraggio di socializzare il proprio punto di vista politico, la propria voglia di ribellarsi, che era stato naturalmente una condizione eterna, se vogliamo, in Tunisia. Ecco, tutti questi punti della microfisica del regime di Ben Ali saltano, saltano completamente con la riappropriazione dello spazio della Casba. E a questo punto mi verrebbe da dire di proporre, di scrivere una nota, magari ancora in chiave ipotetica, sul nostro quaderno collettivo degli appunti, per concludere questo primo intervento. Io penso che con l'appropriazione della Casba e con la costruzione di questo straordinario sit-in di massa, non abbiamo assistito a qualcosa che ha avuto a che fare esclusivamente con la Tunisia, perché poi i reverberi, le onde che dalla Casba hanno iniziato a attraversare il mondo sono davanti agli occhi di tutti. C'è stata quasi in contemporanea Piazza Tahrir, Piazza Sintagma, Barcellona, Madrid, ancora il Bahrain, la Siria, eccetera, eccetera. Tutto il mondo, come dire, ha incominciato a rispondere con questa appropriazione dello spazio pubblico. E in questo Mediterraneo in crisi, specialmente, io avanzerei anche una sorta di provocazione, ma anche di ipotesi politica, che quando guardiamo alla Casba, a Piazza Tahrir, quando guardiamo ormai anche a Piazza Sintagma, a Piazza del Sol, possiamo dire che le insurrezioni, queste insurrezioni, di fatto, sono i nostri processi di pace. Le insurrezioni che sono state, e che ancora adesso, la tendenza insurrezionale di queste manifestazioni, sono la nostra roadmap della pace che viene nel Mediterraneo contro la violenza della crisi del neoliberismo. Quindi, guardare anche a, ormai è passato, se vogliamo, un anno ormai, più di un anno, dai grandi appuntamenti di gennaio che ci furono a Tunisi, della Casba, ancora Piazza Tahrir, che si fa sentire, incominciare a dare materialità anche nel nostro dibattito, e anche radicalizzare il nostro essere partigiani dalla parte di queste piazze, rivendicando il fatto che tutto questo scacchiere di mobilitazioni, di tendenze insurrezionali sono i nostri processi di pace, ma non lo dico in chiave retorica, lo dico cercandolo di legare in maniera immediata a quello che poi è successo in Tunisia. Dalla Tunisia in poi ci siamo liberati finalmente dell'apparato di cattura discorsivo e ideologico dello scontro delle civiltà. Ci siamo liberati finalmente, ci stiamo tentando finalmente di liberare dall'epoca Bush della guerra infinita, quando si diceva con quella finta dicotomia che tanto piaceva alla Falaci, che probabilmente adesso si starà rivoltando nella tomba, visto come è cambiato l'utilizzo dell'islamismo da parte delle potenze, comunque quella dicotomia di Occidente contro Islam, credo, e quindi contro tutta un'area sud del Mediterraneo, credo che è andata completamente in pezzi con i grandi eventi insurrezionali. Ecco perché quindi la nostra roadmap della pace può partire dalle giornate di insurrezione di Tunisi. E per concludere queste prime considerazioni, penso che quando affermiamo una cosa del genere possiamo rientrare anche nell'ordine della composizione e dei comportamenti proletari in Tunisia, visti come forma di produzione anche di alternativa di altre controistituzioni, non solo legate agli eventi della Casba, ma collocarli anche nella quotidianità. Io non posso non citare, se ragioniamo e proponiamo questo discorso, anche la grande battaglia delle madri dei desaparecidos, dei ragazzi tunisini che appena scappato ben alì hanno cercato di portare la rivoluzione anche con il loro viaggio qua in Italia. Questi ragazzi sono ormai dispersi e c'è una battaglia di queste madri che si sono auto-organizzate e stanno cercando di lottare per la verità, per avere la verità sulla sorte dei propri figli. Recentemente hanno organizzato un sit-in in Tunisia, si sono scontrate per dare assalto con i propri corpi all'ambasciata italiana. Ecco, io allora credo che quell'assalto con i propri corpi delle madri tunisine all'ambasciata italiana è stato un assalto soprattutto della pace e della vita, perché tutte le leggi dell'Unione Europea in termini di immigrazione, dell'Italia soprattutto, sono leggi di morte, sono leggi di internamento e invece le mamme dei desaparecidos tunisini, quel giorno quando hanno dato l'assalto all'ambasciata italiana con i propri corpi, hanno dato un assalto dalla parte della pace, della vita e della dignità.